salve youtube e benvenuti in questa nuova puntata di airstone oggi andremo a giocare la quarta ala del massiccio di roccia nera in versione normal andiamo a vedere come ci ha preparato il nostro amico nefanyan apriamo le porte fortezza della nera quanta gente una ricompensa una bella carta per il guerriero osi entrare nella mia dimora va bene alla furion annienta quest'insolente vediamole farlo vediamo tranquillo alla furion vediamo cosa fa potere ore più di salute a un uovo corrotto poi ne evoca uno vediamo un po' ci racconto proviamo con l'arola così andiamo a scoprire anche cosa sono queste uova corrotte contro a la furion ammira le uova corrotte del nostro nuovo stormo dei draghi la caccia abbia inizio adesso è un ammira amico mio andiamo un po' cosa fanno si è simpatico o uovette tocca a me ho capito e si schiude ok cosa fa quando si schiude vabbè lo scopriremo solo giocando come si suonire mettiti questa mela in testa ognuno uovo maledetto allora andiamo un po' come ce la possiamo giocare direi così quello più grosso facciamo fuori ehi tranquillo intanto te le spacco quando ne parliamo ma da caccia non droga in mano ma non lo avrei mai detto mi ha po' lasciato i coltelli che ne vado guarda io non sto facendo curioso di sapere qua c'è in quelle uova amico mio quindi ah io che persona aggressiva che siete allora andiamo per logica facciamo anche così questo fuori questo qui si vede un colpetto a lui e io passo così appena mi attacca fa fuori tutto il furbore vada di addio a tutte le tue creature amico mio oh draco vulcanico bello bello a noi ci piace il vero vulcanico a noi ci piace il vero vulcanico che è meglio mandarlo a nina e no che non c'è più uova andiamo che ci sentiamo così buono da versi ecco ovviamente non è che cambia frequenza no il potere dell'ala nera ecco me questo entra e sopravvive e faccio fare un po' di roba ne può andare vediamo un po' vista casuale ottimo allora 4 2 6 5 11 ok è andato mi spiace che ci devi fa' presentiamo ora un piccolo momento Vicky chi di voi non si è chiesto sperando che di non essere riuscito ad aprirle cosa sarebbe successo quando uno di questi cosi si fosse schiuso che nel testo della carta non c'è scritto vediamo insieme cosa ci propone il nostro amico a questo punto ecco ora sappiamo che se per caso quelle uova lì si dovesse aprire esce un simpaticissimo 7-3 il momento Vicky di questo video termina qui è uno vediamo il prossimo che ci regala oh ci regala un qualcosa per il mago ok ho visto poterò ogni giocatore per usti un mill peta 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 aspetta un attimo la roba qua è un potere oi mille come mi piace pescare da lui le carte perché no contro velastra fuggi prima che perde del tutto il controllo la tua anima sarà mia devi cambiarle queste sono un po' rosse va bene va bene da una prova piccola e poi il gigantello ok tocca a me povero povero ciccio adesso ti libero io tranquillo la furia di roccia la furia di roccia vera scorre nelle mie vene l'altra la furia di roccia vera è un'altra la furia di roccia è un'altra la furia di roccia poi 4 6 8 non è meglio che gioco qualcosa se poter mi faccio macinare le carte importanti si sta macinando il mazzo da solo è un fenomeno aia aia e questo è mare questo lo tengo bene quello lo butto male manita no ragna rossa maledizione questo lo incantiamo e continuiamo a picchiare e peccato dove è andato torvunce e anche argos ottimo forse 2 dovranno a farsi benedire e beh non è con il mio se stesso è furbo come il demonio 6 allora sì un ombrofogo ce l'ho mi facciamo così mi facciamo così mi poi facciamo torta mi faccio mi fa pescare ancora il dragonzolo va bene ma non è pieno vai dottore va bene questa la tengo buono e qua non è me va via vuoi dottor boom va bene e beh come dire addio amico una semplicità assolutamente no come vi dicevo di una semplicità assurda questo scontro è un ombrofogo assurda di una semplicità assurda